Questo è il marketing di Seth Godin. Oggi continuo con la terza pillola di questo libro perché c'è così tanta roba che davvero sarebbe da leggere tutto da quanto merita. Ok, ci sono delle cose che si potrebbero tagliare, però diciamo che cerco di portare comunque sia gli argomenti più interessanti, quelli che a mio avviso gli imprenditori devono conoscere. Per cui oggi leggo un paragrafino molto molto breve che per ora chiude una verità che le persone non considerano. Il titolo del paragrafo è Nessuno ha bisogno del vostro prodotto e lo risottolineo, nessuno ha bisogno del vostro prodotto. Questa è una cosa che ad alcuni imprenditori sicuramente farebbe venire la pelle d'oca, soprattutto a quegli imprenditori che sono prodotto-centrici, quindi sono super focalizzati sul loro prodotto che ritengono essere il migliore in assoluto, superiore a tutti i loro concorrenti e quindi è una conseguenza naturale quella che i clienti dovrebbero acquistare da loro. Ecco, Seth Godin dice che non è così, io condivido, partendo dal presupposto che ad oggi, come dico sempre, avere un prodotto eccellente è il minimo. Nel senso che se entriamo nel mercato dobbiamo avere un prodotto davvero top, altrimenti non ha senso entrare nel mercato. Quindi partendo dal presupposto che il nostro prodotto sia eccellente, proseguiamo la lettura. Non ha senso dire la gente ha bisogno di un portafoglio di pelle bianca perché, uno, le persone non hanno bisogno di un portafoglio, potrebbero desiderarne uno, ma è una cosa diversa. Due, le persone potrebbero decidere di volere un portafoglio di pelle bianca, ma non lo vogliono perché è bianco o perché è di pelle, lo vogliono per come li farà sentire. Ecco cosa comprano, una sensazione, non un portafoglio. Identificate quella sensazione prima di investire del tempo a realizzare un portafoglio. Noi marketer realizziamo il cambiamento, portiamo le persone da uno stato emotivo all'altro, conduciamo le persone attraverso un percorso, un po' alla volta le aiutiamo a diventare la persona che hanno sognato di diventare. Ora, la cosa interessante di questo paragrafo, forse anche difficile da capire, è questa. Le persone non comprano il prodotto in sé. Io dico spesso che le persone comprano un risultato, ed è esattamente così. In alcuni casi questo risultato è un cambiamento. Le persone vogliono sentirsi. In un certo modo, considerate che l'emotività, lo stato emotivo, è una delle levi più forti per far muovere le persone. E ieri o l'altro ieri, mi sembra, vi ho letto un elenco delle parole più forti da utilizzare, ve ne rilego qualcuna, giusto per appartenenza, controllo, potere, rispetto, vendetta, sicurezza e via dicendo. Sono tutte emozioni molto molto forti. Ogni persona reagisce più o meno forte ad ognuno di questi elementi. E nel momento che noi vendiamo un qualcosa, la persona andrà incontro alla soddisfazione di una di queste emozioni. Ed è per questo che è importante non tanto descrivere le caratteristiche del prodotto, ma i risultati che il prodotto porterà alla persona. Quindi farle sentire come una persona di potere, farle appartenere a una certa comunità, farle sentire più sicure. È questo ciò che le persone comprano. Il prodotto è solo un tramite, è solo un mezzo. Nel momento che riusciamo a comunicare in questo modo, le vendite arriveranno di conseguenza. Perché sarà davvero la conseguenza logica di ciò che le persone vogliono. E di conseguenza il vostro prodotto è il mezzo migliore per raggiungere quella sensazione, quel loro obiettivo, quel loro stato d'animo, o comunque quello che loro appunto vogliono. Quindi quello che consiglio a tutti gli imprenditori è di iniziare a pensare in questo modo e a individuare e identificare le emozioni che vengono smosse dal vostro prodotto. A quel punto ha senso iniziare a fare marketing e ha senso farlo sapere alle persone. Perché inizierete ad avere una comunicazione molto molto più efficace. Con questo è tutto. Vi consiglio ovviamente, se volete approfondire a questo aspetto, il mio corso Business Fire Up e vi darò di più, c'è una lezione. Se voi andate sul mio sito pilloledibusiness.com la trovate direttamente in un page. Si chiama lezione 4 Business Fire Up, qualcosa del genere. Ed è la lezione 4 appunto del mio corso in cui si concentra proprio per identificare quello che è per voi il cliente ideale. Quindi vi aiuterà davvero a identificare quali sono le emozioni che voi andrete a colpire, come suggerisce Seth Godin, e vi semplificherà davvero la vita, oltre che ad aumentare di molto i vostri risultati. Con questo è tutto. Se avete trovato utile questa pillola, cliccate mi piace e condividete. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, ripeto per l'ennesima volta, questo libro è davvero una bomba. Quindi non fatevelo scappare, leggetevelo più e più volte perché se siete agli inizi soprattutto, tante cose vi potranno sembrare un pochino confuse, troppo astratte, ma nel momento che avete unito tutti i puntini e avete una visione chiara del business, quindi di tutto ciò che riguarda business e marketing, le informazioni e i contenuti qui dentro potranno veramente essere la svolta. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!